L'Ucraina rafforza la difesa con i nuovi potenti mezzi corazzati, gli stessi in dotazione all'esercito britannico. I carri armati Changelet-Chun sono arrivati nelle zone del conflitto. Oltre 14 mezzi militari attestati tra i privi ministro della difesa, Rechniko, che ha pubblicato un video sui social mostrando quelle che ha definito fantastiche macchine da combattimento. L'annuncio dei rinforzi è arrivato poche ore dopo che il cancelliere tedesco ha confermato di aver inviato all'Ucraina altri carri armati. Questi mezzi sono più numerosi di quelli inglesi perché in dotazione agli eserciti di diversi stati dovrebbero avere un ruolo importante nella controffensiva a est del paese. Grazie. 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 Grazie.